Il nostro futuro sarà davvero insostenibile. Quanto ci costa l'energia? Quanto ci costa il progresso? Petrolio, combustibili fossili, centrali a carbone, qual è il prezzo che siamo disposti a pagare? Fami, inondazione, avvelenamento. Chi pagherà per tutto questo? La natura ci chiede di cambiare. Cosa vuol dire cambiare? Cambiare vuol dire scegliere. Utilizzando le fonti che da sempre la natura ci offre. Fonti pulite, sicure, inesauribili. Senza rifiuti nocivi per noi e per l'ambiente. L'energia che trasforma la tua vita. Il sole, il vento, la terra, l'acqua. Sono vita e sono energia. Fotovoltaico. Solare termico. Illuminazione a led. Pompa di calore. Utilizziamo solo prodotti di elevata qualità. Selezionati da Enel Green Power. Un'energia in armonia con la natura. Riduce i costi delle bollette. E usufruisci delle detrazioni fiscali. L'energia del futuro è un'energia che non inquina. Un'energia che nasce dalla natura. Che la rispetta e la protegge. Un'energia moderna. Intelligente. Pulita.